Il bookshop dell'ufficio in relazioni con il pubblico aumenta la sua offerta di materiali a stampa. Da inizio anno è disponibile la cartella litografie tratte da John Latham, a General Synopsis of Birds. Latham, nato in Gran Bretagna il 27 giugno 1740, medico appassionato allo studio degli animali e in particolare all'ornitologia, morì quasi centenario il 4 febbraio 1837. Nel ricco catalogo dell'URP, visibile anche in rete, numerose altre pubblicazioni di pregio, oltre a una varia oggettistica istituzionale.